Dovranno rispondere dell'accusa di inquinamento ambientale i tre dirigenti di Accegassa PS AMGA indagati al termine di un'indagine condotta dai carabinieri forestali di Padova. Era il 2 novembre del 2022 quando alcuni cittadini chiamarono il 112 segnalando un'anomalia cromatica ed una diffusa moria di pesci a valle dello scolo Fossa Mala e fino allo scolo Rialto in via dei Colli ai confini tra Montegrotto e Abano Terme nel Padovano. Le indagini hanno permesso di risalire alle cause. Nelle acque da cui sono stati ripescati sette quintali di pesci morti, l'ARPA aveva rilevato un'anomala concentrazione di azoto tipica del refuo degli scarichi domestici causati da un improvviso blackout verificatosi nella tarda serata del 31 ottobre che aveva determinato il blocco dell'impianto di depurazione per le successive 36 ore. In tilt per lo stesso tempo anche i sistemi di emergenza. Solo il 2 novembre i tecnici avevano ripristinato la normale funzionalità. Secondo quanto accertato dai carabinieri forestali, l'impianto non era dotato di un generatore per garantire la continuità dell'attività di depurazione. Per questo tre dirigenti della società sono stati indagati e rischiano una condanna da 2 a 6 anni e una multa da 10.000 a 100.000 euro.